Ciao a tutti, amici di Vanilla. Oggi vediamo una storia da un passato che i nostri genitori o le nostre nonne ricordano benissimo, una storia la cui trama si svolge fra l'Iran, o la Persia che dir si voglia, e l'Europa, in particolare Italia e Francia. Una storia di re e regine, ma anche di cinema e di sogni infranti. Prima di iniziare a parlare di Soraya e dello Shah di Persia, due appunti. Il primo sulle pronunce. Ho cercato di capire come pronunciare i nomi dei diversi personaggi, ma online non si trova nulla se non vecchi documentari Rai che pronunciavano all'italiana, quindi dobbiamo affidarci a una versione certamente storpiata della pronuncia dei nomi, scusatemi in anticipo. La seconda. Se ancora non sei dei nostri qui su Vanilla, clicca sul tasto iscriviti ed entra nella community. Non costa nulla e sosterrai il nostro progetto di divulgazione culturale. Grazie mille. L'Iran è una nazione che può vantare oltre 2500 anni di storia e innumerevoli dinastie di regnanti. L'ultima, la dinastia Palavi, contò solo due sovrani che mantenero il potere per poco più di 50 anni. 50 anni tumultuosi non solo per le vicende politiche iraniane, ma anche per la vita familiare degli stessi Shah. Una delle storie più note e più tristi della dinastia Palavi è quella di Soraya Esfandiari Bakhtiari, soprannominata la Principessa Dagli Occhi Tristi. Nevicava Teheran il 12 febbraio del 1951, mentre una Rolls-Royce con intarsi dorati faceva il suo ingresso nei giardini del Palazzo Reale del Golestan. A bordo dell'auto c'era una donna, il cui nome era divenuto famoso nel giro di pochi mesi in tutta la Persia e nel mondo intero, la Principessa Soraya, la Rosa di Isfahan. Capelli corvini, malincolici occhi verdazzurri e una bellezza fine e delicata. Il soprannome le derivava dalla città natale del padre, il principe Khalil Esfandiari, uno dei capi dell'influente tribù dei Bakhtiari. Khalil, ambasciatore in Germania, aveva sposato l'ereditiera Eva Karl, la quale aveva dato alla luce la loro prima figlia il 22 giugno del 1932 a Isfahan, nello stato che all'epoca era ancora conosciuto come Persia. La sensazione di essere spezzata e contesa tra due realtà, l'Europa di Velta dai venti di guerra e la Persia, dove la dinastia Bakhtiari aveva radici secolari, accompagnò Soraya per tutta la vita, divisa tra le passeggiate e i giochi con i nonni materni a Berlino, e l'adolescenza trascorsa insieme al fratello Bijan nel giardino della sontuosa casa che i genitori fecero costruire a Isfahan. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Soraya si vide costretta ad abbandonare la scuola tedesca che frequentava Isfahan, proseguendo i suoi studi privatamente. L'educazione di stampo persiano, che le venne impartita dalla sua istitutrice, si rivelò carente e venne a sua volta accantonata quando, al termine del conflitto, Khalil ed Eva decisero di mandare la figlia in collegio, prima a Montreux e poi a Lausanne. Gli anni del collegio non furono infelici, sebbene Soraya avesse poche amiche. Il suo carattere riservato e indipendente le permetteva di bastare a se stessa e di coltivare in solitudine le sue passioni, il nuoto, la pesca, l'equitazione e la fotografia. Il 1950 fu l'anno del diploma, per certi versi la fine di una vita e l'inizio di una nuova. Il percorso di Soraya sembrava non dover prendere un sentiero molto diverso da quello di altri giovani di ieri e di oggi. La principessa si trasferì in Inghilterra all'inizio dell'estate. Il soggiorno a Londra le avrebbe permesso di migliorare il suo inglese e darle il tempo di pianificare il suo futuro. Il grande sogno nel cassetto era quello di diventare un'attrice. La vita di Soraya subì effettivamente una svolta, ma non fu né il cambiamento che lei si attendeva né soprattutto fini con il somigliare alla pellicola di un film romantico come il mondo intero si sarebbe aspettato. Quell'estate del 1950 a Londra soggiornava anche la principessa Ashraf Pallavi, sorella gemella dello Shah di Persia, Mohammed Reza Pallavi. Ashraf conobbe Soraya nel corso di una sua re e si adoperò immediatamente per raccogliere informazioni sul suo conto. L'interesse della principessa Ashraf per Soraya non era però dettato da mera curiosità o dal banale pettegolezzo. Circa dieci anni prima, Mohammed Reza Pallavi aveva sposato la principessa Fosia d'Egitto. Il matrimonio da cui era nata una figlia, Shanaz, si era rivelato mal assortito e profondamente infelice, e si era concluso con il divorzio della coppia nel 1948. Da allora lo Shah era alla ricerca di una nuova consorte. A occuparsi della selezione di eventuali candidate erano la principessa Ashraf e Taj al-Moluk, madre dello Shah. La personalità e la bellezza di Soraya vennero considerate da Ashraf appropriate per la futura regina dell'Iran, e una fotografia inviata a Teheran ottenne l'approvazione anche della regina madre. Soraya quindi fu invitata a cena al Palazzo Reale di Teheran, e alla ragazza sembrò un comune evento formale a cui avrebbe dovuto partecipare come membro di spicco della tribù bakhtiari. L'incontro con Mohammed Reza Pallavi si rivelò una sorpresa per entrambi. Lo Shah era un uomo affascinante e carismatico, anche se non un modello di bellezza. Era salito al trono del pavone, così veniva chiamato il trono dell'Iran, nel 1941, e riteneva che il suo ruolo fosse stato stabilito da un preciso disegno divino. Viveva nel culto della centenaria storia della Persia e dei suoi monarchi, in particolare di Ciro il Grande, ma lo Shah aveva improntato la sua politica su una linea filo-occidentale. Soraya rimase affascinata dallo Shah, il quale aveva a sua volta studiato in Europa e con cui conversò per tutta la durata della sua re. Per la principessa fu amore a prima vista, ma al termine della serata tornò all'hotel dove alloggiava insieme ai genitori e andò a letto certa che non avrebbe avuto altre occasioni per rivedere lo Shah, quantomeno non a breve. Immaginate il suo stupore quando poco dopo le due del mattino venne svegliata da suo padre. Khalil Esfandiari le comunicò di aver ricevuto una telefonata da parte dello Shah in persona, che aveva chiesto la mano di sua figlia. Al colmo della felicità, Soraya rispose sì. La neve nel giorno delle nozze, segno di buono auspicio, così vuole un'antica credenza iraniana. Ma altri e più sfortunati presagi offuscarono il matrimonio di Soraya e dello Shah, gettando un'ombra sul destino che avrebbe atteso la principessa. Poche ore dopo la telefonata tra lo Shah e Khalil Esfandiari, le fotografie di Soraya vennero diffuse su tutti i giornali del paese e le voci che la vedevano come la nuova futura sposa del sovrano vennero ben presto confermate. Il fidanzamento venne ufficializzato molto in fretta e poiché lo Shah desiderava convolare a nozze il più presto possibile. La data del matrimonio venne fissata per il 26 dicembre del 1950. Ma un evento inaspettato rinviò le nozze. Poche settimane prima della cerimonia, Soraya si ammalò gravemente di tifo. La principessa fu in pericolo di vita per alcuni giorni e dopo la fase acuta iniziò una lunga e lenta convalescenza. Lo Shah le fece visita ogni giorno, ma la sua impazienza gli impedì di attendere che la futura sposa si fosse pienamente ripresa. Il 12 febbraio del 1951 una Teheran innevata accoglieva i 2.000 invitati al matrimonio dello Shah di Persia. Il Palazzo Reale era decorato con orchidee, rose e tulipani giunti in aereo dai Paesi Bassi e riempito da donne di nozze da parte delle più importanti figure politiche del tempo, da Stalin al presidente statunitense Truman ai sovrani d'Inghilterra. Soraya, pallida, ancora debole per la malattia e con la febbre alta, indossava un abito di Dior in lame d'argento, decorato con perle e piume di marabù. Un vestito che sarebbe stato il sogno di molte spose, ma troppo pesante per una ragazza di 19 anni ancora convalescente. La principessa svenne tre volte sotto il peso della stoffa e dei gioielli, tanto che lo Shah gli dè ordine di tagliare buona parte dello strascico per non affaticare ulteriormente la sposa. La cerimonia fu trasmessa dalle televisioni di tutto il mondo e si concluse in tarda serata. Calò il sipario su quella che appariva come la perfetta conclusione di una storia d'amore che si preannunciava lunghissima. Anni dopo, Soraya scrisse nelle sue memorie del Palazzo della Solitudine e di come la parte più difficile dell'essere la nuova regina dell'Iran dovesse ancora cominciare. La coppia più innamorata che mai si stabilì presso il Palazzo Reale, dove Soraya assunse il ruolo di moglie dello Shah, accompagnando il marito a eventi pubblici e dedicandosi a opere di beneficenza. Lo Shah era quasi tutto il giorno impegnato in affari politici e Soraya, per sopportare meglio la solitudine, provò a dedicarsi ai suoi vecchi passatempi di studentessa o a trascorrere del tempo con la famiglia reale. La nuova regina si rese conto che la vita di Palazzo era in realtà una trappola, si sentiva osservata e giudicata ogni ora del giorno, le era impedito di giocare a tennis, cavalcare o avere una macchina fotografica. Scoprì persino che la e la regina madre, che tanto avevano caldeggiato la sua unione con lo Shah, ora sembravano essersi pentite di averla favorita. Ashraf e Taj al-Moluk si dimostrarono gelose di Soraya, poiché vedevano in lei una possibile avversaria nell'affetto del sovrano. Una terza rivale era, secondo Soraya, la principessa Shanaz, con la quale ebbe frequenti scontri. Un'altra presenza che Soraya avvertiva come molesta era quella di Ernest Perron, migliore amico e segretario dello Shah, il quale si intrometteva continuamente nella vita privata della coppia e che aveva su Mohamed Reza un'influenza che la regina giudicava pericolosa. Soraya veniva criticata per l'educazione europea, contraposta alla millenaria tradizione iraniana, e poteva rifugiarsi soltanto nell'amore che la legava allo Shah. L'amore e la lealtà di Soraya verso il marito vennero messi alla prova durante il colpo di stato di Mossadegh. Nel 1953 il primo ministro iraniano Mohamed Mossadegh prese il potere e costrinse lo Shah e la moglie alla fuga. La coppia raggiunse Roma e lì si stabilì in esilio, avendo con sé una piccola somma in denaro sufficiente, a dire di Reza Palavi, a comprare una piccola fattoria negli Stati Uniti e a vivere da agricoltori. Soraya accettò con stoicismo l'esilio e accettò anche il denaro che gli amici dello Shah raccolsero per mantenere la coppia a Roma. Fu certamente più felice quando, dopo la deposizione di Mossadegh, lei e il marito poterono tornare in Iran e riprendere il ruolo dei sovrani, anche se una nuova ondata di critiche investì la coppia. Soraya e lo Shah iniziarono a dedicarsi sempre meno alla politica e sempre di più a passatempi all'aria aperta, balli in maschera e, soprattutto, lunghi e lussuosi viaggi intorno al mondo. I media e l'opinione pubblica iraniani scagliavano frecciatine maligne alla coppia, ogni qualvolta i paparazzi segnalavano la loro presenza a Hollywood, oppure nella Sun Valley o a Miami Beach. Ciò che la gente non sapeva era la ragione di quei viaggi, che non era semplice svago, ma qualcosa di molto più serio. Terminato il colpo di stato di Mossadegh, gli occhi e il pensiero dell'Iran tornarono al principale motivo per cui lo Shah si era risposato, la mancanza e la necessità di un erede maschio al trono del pavone. Le voci sulla presunta incapacità di Soraya di avere figli avevano iniziato a circolare già dai primi mesi dopo le nozze, ma verso la fine del 1954 lo Shah stesso confidò alla moglie la sua preoccupazione. In quello stesso anno aveva perso la vita il fratello minore dello Shah, il principe Ali Reza, che Mohamed Reza aveva nominato come suo successore ufficiale nella mancanza, che riteneva l'epoca soltanto temporanea, di un erede. Soraya fu visitata da alcuni luminari a San Francisco, dove fu solo accennato un problema di fertilità. Dopo una seconda visita a Boston si arrivò a un verdetto in fausto. Soraya era sterile. La donna si sottopose a moltissime cure presso cliniche in Svizzera e in Francia, che però non diedero alcun frutto. La consapevolezza di non poter avere figli fu una grande sofferenza per Soraya, la quale pensava di poter raccontare sull'amore del marito, che le sarebbe rimasto accanto pur sapendo di non poter mai avere un erede da lei. Questo, almeno, era ciò che la principessa si illudeva sarebbe accaduto. Le voci sulla sterilità di Soraya divennero presso di pubblico dominio, voci che furono usate dalla regina madre per alimentare la sua antipatia nei confronti della nuora. Taj al-Moluk iniziò a fare pressioni sul figlio affinché divorziasse e scegliesse una moglie in grado di dargli un erede. Lo Shah all'inizio rifiutò la proposta della madre, ma i suoi consiglieri e l'alta considerazione che aveva del ruolo lo misero di fronte a un bivio. Mohamed Reza Palavi era considerato in quanto sovrano dell'Iran il re dei re, reggente di Dio, ombra dell'Onnipotente e centro dell'universo, e non riusciva a tollerare di non poter proseguire una dinastia millenaria di sovrani. A peggiorare la situazione dopo la morte del fratello minore fu il matrimonio della principessa Shanaz con Ardeshir Zahedi, un uomo che lo Shah disprezzava e che non avrebbe mai accettato di vedere sul trono dell'Iran. Soraya, terrorizzata che il suo intero mondo stesse per crollare, provò a suggerire al marito di modificare la Costituzione, in modo da disegnare come suo erede uno dei suoi fratellastri. La principessa si illudeva che lo Shah avrebbe agito come re Edoardo VIII d'Inghilterra, che qualche anno prima aveva abdicato al trono per amore della donna che amava Wallis Simpson. Lo Shah rifiutò e nel marzo del 1958 comunicò a Soraya la sua decisione, che sarebbe stato permesso di conservare il suo ruolo di regina e di consorte principale, a patto che accettasse la presenza di una seconda moglie con cui Mohamed resa fosse stato in grado di generare un'erede. Soraya si sentì umiliata dall'ultimatum del marito, respinse con decisione questa proposta e preferì essere ripudiata. Il 21 marzo del 1958, durante il capodanno iraniano, lo Shah scoppiò a piangere nella diretta televisiva e radiofonica in cui annunciava il suo divorzio da Soraya. La principessa lasciò l'Iran per non farvi mai più ritorno. Soraya aveva 26 anni al momento del divorzio e iniziò a viaggiare per il mondo, soggiornando prima a Monaco e poi in Francia, stabilendosi infine in Italia. Aveva deciso di tentare di realizzare il suo sogno di adolescente, diventare un'attrice. In Italia Soraya divenne famosa con il soprannome La Principessa dagli occhi tristi e la sua popolarità le fece ottenere un ruolo nel film I tre volti. La sua performance, anche se fu lodata e promossa da Alberto Sordi, non venne apprezzata né dal pubblico né dalla critica e pose fine alla breve carriera dell'ex regina di Persia. Il film diede però occasione a Soraya di conoscere il regista Franco Indovina, sposato e con tre figlie. La storia d'amore tra Indovina e la principessa dagli occhi tristi durò per sette anni, sette anni durante i quali l'uomo si rifiutò categoricamente di divorziare e in cui Soraya, sentendosi in colpa, si allontanava più riprese da lui per poi ritornare dopo brevi periodi di separazione. Tutto si concluse tragicamente con la morte di Franco Indovina, rimasto ucciso nel disastro aereo del volo all'Italia 112 del 1972. La morte di Franco acuì la depressione che già dal giorno del divorzio aveva iniziato ad avviluppare l'anima di Soraya. La principessa tornò in Francia, dove si stabilì in un appartamento nel cuore di Parigi. Con il trascorrere degli anni si ritirò progressivamente dalla scena pubblica e prese a frequentare sempre meno le serate mondane e gli eventi di società. Ma in tutti quegli anni non aveva mai smesso di informarsi sulla sorte dell'Iran e dello Shah. Un anno e mezzo dopo il divorzio di Soraya, Mohamed Reza Palavi aveva sposato la sua terza moglie, Farah Diba, la quale aveva dato alla luce il tanto sospirato erede, il principe Reza. Lo Shah e Farah Diba avevano avuto altri tre figli, la principessa Faranaz, il principe Alireza, e la principessa Leila. La rivoluzione del 1979 aveva posto fine alla dinastia Palavi e alla monarchia iraniana, costringendo lo Shah a lasciare il paese. La coppia aveva vissuto da esule in Marocco alle Bahamas e in Messico. Infine, l'Egitto aveva deciso di accogliere lo Shah e la sua famiglia, anche a causa delle gravi condizioni di salute in cui versava Mohamed Reza, malato di linfoma in stato terminale. Quando Soraya seppe che lo Shah si trovava in fin di vida, gli scrisse una lunga lettera in cui ribadiva tutto l'amore che aveva provato e che ancora provava per lui, chiedendogli di rivederlo per l'ultima volta. L'incontro venne ostacolato dall'iniziale opposizione di Farah Diba, la quale infine cedette alle ultime volontà del marito morente. Poco prima di prendere l'aereo che l'avrebbe condotta in Egitto al capezzale dello Shah, Soraya ricevette la notizia che Mohamed Reza era aspirato. Dopo la morte dell'ex marito, l'ex regina si lasciò cadere nella più profonda depressione. Si irriterò nel suo appartamento di Parigi, che aveva decorato con i doni di nozze e con tutti i suoi ricordi dell'Iran e della sua vita con lo Shah, frequentando poco il mondo e mantenendo i contatti solo con pochi affetti. Il 26 ottobre del 2001 la domestica di Soraya trovò la principessa senza vita. Quegli occhi tristi si erano chiusi per sempre, segnando un destino che, secondo le parole della stessa Soraya, aveva sacrificato la sua felicità in nome della ragione di Stato.